Ciao a tutti ragazzi, sono io T-Black Game e oggi sono qui su vostra richiesta per parlarvi del primo DLC per Call of Duty Ghosts, dato che in questi giorni è trappellata un'immagine, una fotografia scattata all'interno di un negozio che raffigurava una locandina pubblicitaria del DLC, del primo DLC per Call of Duty Ghosts. Questo DLC è chiamato Onslaught, i nomi dei 4 DLC già si sapevano, e si presume, anzi è confermato, che uscirà il 28 gennaio su Xbox 60 ed Xbox One, mentre un mese dopo su PlayStation 3, PlayStation 4 e PC. E che cosa conterrà questo DLC? Bene, di solito i DLC contenevano semplicemente 5 mappe multiplayer, mentre come abbiamo visto su Black Ops 1 e Black Ops 2 li contenevano anche una mappa zombie, eventualmente delle armi bonus per zombie. Questo DLC su Call of Duty Ghosts, Onslaught, conterrà 4 mappe multiplayer, una nuova mappa per la modalità Extinction, ed una nuova arma per il multiplayer. Partiamo dalle mappe multiplayer. Le 4 mappe multiplayer sono chiamate Fog, Bayview, Containment e Ignition. Partiamo dalla mappa Fog. La mappa Fog, guardando questa fotografia, personalmente mi ricorda Shinonuma, la mappa zombie di World of War, in quella specie di palude, ecco. Perché? Perché già il nome Fog, Nebbia, ci fa capire che genere di mappa troveremo. Ecco, questa mappa è una mappa situata in una zona paludosa, circondata da nebbia, leggermente diversa dalle classiche mappe di Call of Duty Ghosts, e a quanto pare sembra che sia una mappa che si stenderà orizzontalmente. La seconda mappa, chiamata Bayview, si trova nei pressi di un faro, come vediamo nell'immagine, quindi ci troveremo vicino al mare, vicino a una scogliera, probabilmente, e personalmente potrebbe essere una mappa che ricordi la mappa Boardwalk. Una delle ultime mappe di Modulo F3, uscita con un DLC, è la mappa che si trova in quella specie di parco divertimenti, ecco. Può darsi che si tratti di una mappa simile. La terza mappa, chiamata Containment, questa mappa può darsi che si stenda su più livelli, quindi non sarà una mappa completamente orizzontale, ma potranno esserci più piani. La quarta e ultima mappa, chiamata Ignition, da questa foto non si capisce molto, pare che ci sia un edificio ricoperto di piante rampicanti sulla destra, e sulla sinistra un altro edificio con sopra un numero 3, ecco. Da qui non vi posso dire molto, tuttavia è probabile che una di queste quattro mappe sia un remake di mappe precedenti di Call of Duty, probabilmente di Call of Duty 4, Modern Warfare 2, oppure Modern Warfare 3. E si presume, anzi si pensa, guardando l'immagine, che la mappa Ignition sia un remake della mappa Scrapiards in Modern Warfare 2, perché da questa immagine più o meno sembra che gli edifici presenti, anche il camion in mezzo istituito da questo specie di blocco, penso sia una specie di generatore, in mezzo alla strada ricorda la struttura di questa mappa. La quinta mappa, invece, sarà una mappa per Extinction. L'episodio 1 di Extinction è chiamato Nightfall. Non sappiamo nulla riguardo questa nuova mappa, anche dall'immagine vediamo un classico alieno, quindi non si sa se troveremo nuovi alieni, questo magari è probabile. Quindi, per avere ulteriori dettagli su questa mappa, dovremo aspettare l'uscita del gioco, scusate, l'uscita del DLC, o quantomeno l'uscita di qualche gameplay su YouTube. Infine, questo DLC conterrà anche un'arma bonus per il multiplayer chiamata Maverick AR and Sniper Rifle. Quest'arma, Maverick AR, che significa Assault Rifle, ossia fucile d'assalto, and Sniper Rifle, che significa fucile di precisione, sarà un ibrido. A quanto pare, se lasceremo il fuoco automatico su quest'arma, sarà considerata un fucile d'assalto. Quando applicheremo l'accessorio colpo singolo, quest'arma potrebbe diventare un fucile di precisione. Quindi non abbiamo ulteriori dettagli, secondo me quest'arma sarà molto più simile a una delle nuove armi chiamate Marksman, ossia gli ibridi tra fucile d'assalto e fucile di precisione, ma a quanto pare, dato che non è chiamata Maverick Marksman, potrebbe trattarsi di veramente un ibrido. Quindi troveremo sia la parte dedicata al fucile d'assalto, quindi con il fuoco automatico, sia la parte dedicata a un fucile di precisione, magari con il colpo singolo. Dunque ragazzi, questo era il primo DLC per Call of Duty Ghost, che uscirà il 28 gennaio, come ricordo, prima su Xbox e poi su PlayStation, un mese dopo, e scrivetemi cosa ne pensate, quale secondo voi sarà la mappa più interessante, la mappa migliore, e quale secondo voi sarà il remake di una delle mappe precedenti. Non è confermato che ci sia un remake, questa è una supposizione, tuttavia non da escludere. Quindi ragazzi, se il video vi è piaciuto, vi prego di lasciare un mi piace, qui, T-Black Game, al prossimo video.